Grande, grande sorpresa qui a Colorado. Lui, lui, è l'ultima frontiera dell'intrattenimento. Pensate che è un lettore multimediale di ultima generazione, dotato di intelligenza, in grado di riprodurre ogni tipo di supporto, di musica, di film. Cic! Ecco, dicevo, ovviamente è un prototipo, per cui lo dobbiamo ancora mettere a posto. Cic! Cic! Ma che... quando uno fa... va bene. Ma allora, vediamo come funziona. Cd di Piero Pelù. Lui è dotato qua di un'apposita fessura, io lo inserisco e guardate quello che capita, perché è strepitoso. Piero Pelù, vai! Ah, il mio nome ha mai più, mai più. Ah, il mio nome ha... Ah, ciao, Francia! Io vi amo! Vabbè, siamo a Milano, comunque. A Milano siamo. Milano! Io vi amo! Per esattezza a Cologno Montese, io vi amo! Ah, hai rotto le balle! Ah, va bene, io l'ho detto. Ah, sai, sai, sai! Certo, lo dobbiamo ancora sistemare un attimino. Ah, certo, però adesso io vado a... Perché i bambini fanno... Ah! Allora, tiriamo via questo. Adesso voglio farvi vedere come funziona un film, eh? Tata, tata, tata. Cos'è? Pubblicità. No, ma mi interessa, io voglio parlare di questo film. Luigi ha detto di no a colesterolo. Ma non me ne può fregare di meno, nel senso che questo è... Ed è morto lo stesso. Ho capito, però io vorrei parlare di questo file che è un film, praticamente, con Rocky, eh, con Rocky. Lui aveva anche smesso di mangiare la carne, le uova. Sì, ma non mi interessa, io lo farei a voi a casa. Cioè, non è andato a letto e si è svegliato morto. Ho capito, ma non me ne può fregare di meno. Devo far vedere loro come... E poi anche la sorella si era svegliata morta un giorno per il colesterolo. Ma non me ne frega niente del colesterolo, dobbiamo far vedere come... Una famiglia distrutta da colesterolo. E chi se ne frega! Allora, vediamo come... Però non ti agitare così. No, scusa, è che mi è venuto un attimo. Poi magari ti viene un infarto e muori. Eccolo, eh, eccolo, eh. Allora, dicevo come funziona Rocky, il film Rocky. Lo ricordate? Guardate. Rocky, vai. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dobbiamo combattere. Pronto? Lo stallone italiano? Sì, sono io. Deve combattere contro il campione del mondo. Va bene. E l'angolo sinistro, quello tutto nero, pollocri. E l'angolo destro, Rocky, bobo. Rocky, Rocky. Giocava in casa lui. Non fa male, Rocky, non fa male. E non fa male. E Rocky per terra. Ha vinto Pollocri. Non ci sarà una rivincita. E chi ci ha chiesto niente? Adriana! Adriana! Dimmi. Sono gay. Ma no! Come gay? Ma lo porto via, scusate.